Ragazzi miei, che partita, che partita. Lo so che è strano vedere sul primo canale di video post partita di altre squadre diverse dalla Juventus, ma ho pensato che una partita così importante non solo per la storia del calcio italiano ma anche per la classifica effettivamente potesse risultare piacevole per chi mi segue, sia per i tifosi juventini e sia per quella parte di tifosi che non tifano io ma che comunque sono sempre qua sul canale per sentire tutte le mie opinioni sulla Juventus. Come sempre vi ricordo lo sponsor del canale qui sotto in descrizione c'è la possibilità di scaricare OneFootball sui vostri cellulari, fatelo, è completamente gratuito. Per rivedervi anche gli highlights saranno infiniti, meno male di questa partita veramente allucinante da quanto bella OneFootball gratis da scaricare qui sotto in descrizione che ci accompagnerà anche con qualche notizia anche inerente se vogliamo il calcio mercato invernale dato che ci stiamo avvicinando e c'è la pausa nazionale e poi per capire anche i tanti infortunati magari anche dell'Inter di questa sera, Bastoni, Barella che devono appunto aggregarsi ad una strana italiana se ce la faranno o se ci saranno altre convocazioni al loro posto. OneFootball gratis, scusate in descrizione. Allora che cosa devo dirvi? Che da tifoso della Juve sono contentissimo per il pari, ho tifato per il pari, nonostante nella mia testa ci fosse un altro risultato. Infatti prima della partita avevo puntato, avevo fatto una schedina, di solito non gioco mai ma ci sono delle partite in particolare, magari delle serate in cui sul libro come stasera me la sono guardata goduta sul divano con la pizza, con la birra e avevo puntato, avevo segnato il 3-1 dell'Inter. Pensavo che questa sera potesse vincere l'Inter, potesse dare anche una scossa a questo campionato, invece l'Inter non va ad accorciare sul Milan, così come il Milan non va in fuga sul Napoli che aveva pareggiato pochissimi minuti prima in casa contro Rellas Verona, ancora una volta l'1-1. Risultato un po' ricorrente per quanto riguarda Napoli e Verona negli ultimi tempi e se l'anno scorso avevamo goduto tantissimo per quello 1-1, quest'anno godicchiano tra virgolette i tifosi di Milan e Inter che vanno ad annullare questo pareggio nel derby. Una partita bella, combattuta, maschia, coraggiosa, devo dir la verità. Due squadre diverse, perché partiamo dall'Inter. L'Inter secondo me è la squadra più quadrata, più organizzata delle due che hanno giocato questa sera. Si vede che l'Inter viene da uno scudetto, si vede che l'Inter viene da Antonio Conte, si vede che è una squadra anche vecchio stampo, 3-5-2, secco, puro, quello è, non si schioda quando si attacca così, quando si difende magari si abbassa gli esterni, fa la differenza i due esterni, Darmiani e Perisic. Tra l'altro anche qua apro una parentesi perché su Perisic avevo dei dubbi per vederlo in corovo lì, invece alla fine mi sono dovuto ricredere. Così come per Darmiani, io ricordo che tutte le finestre di mercato si diceva Darmiani ha accostato la Juventus e alla fine quando è andato all'Inter ho quasi esultato perché ho detto così non ci tocca più essere accostati a Darmiani, l'anno scorso Darmiani si è guadagnato un pezzo di scudetto con l'Inter meritatamente e anche quest'anno sta giocando titolare con un altro allenatore, con Simone Inzaghi, quindi non è stato solo Antonio Conte, ma alla fine probabilmente Darmiani non è un giocatore così scarso come ce l'avevo in testa, come me lo ricordavo io negli anni passati. Una squadra, dicevo, organizzata, l'Inter, che forse ha anche avuto le occasioni più grosse, più interessanti, mi viene in mente, vabbè, banalmente il rigore parato all'Autaro Martinez, infatti quando siamo andati su 1-1 e poi c'è stato il calcio di rigore dell'Inter, ho proprio pensato questo 3-1 che mi sono giocato nella schedina a finire che me lo becco. Era difficile pensare che potessero esserci soltanto due gol all'interno della gara dopo un primo tempo così scoppiettante. Poi Lautaro sbaglia, para Tatarosanu e l'equilibrio rimane così fino all'ultimo secondo. Ma altre occasioni clamorose sono quella di Barella dopo la bella palla messa da Bastoni e anche qua mi viene a dire Bastoni forse l'anno scorso leggermente meglio rispetto, adesso non posso dire quello di quest'anno perché non ho visto tante partite dell'Inter, ma quello di stasera non mi è sembrato un Bastoni così solido come quello dell'anno scorso. Poi chiedo magari ai tifosi e supporter dell'Inter di farmi sapere quello che ne pensano a proposito qui sotto nei commenti. Un'altra occasione grandiosa è quella di Vidal appena entrato che forse non è proprio entrato benissimo, lo conosce bene, Arturo solitamente in area, con i palloni lì, li butta dentro. Poi so che Vidal quest'anno si sta anche riprendendo, era anche un buon momento, non lo so, non mi è piaciuto tantissimo l'ingresso di Vidal, anche perché è in ballottaggio, no? È in ballottaggio con Cialanoglu che è lui che sblocca il derby, è l'uomo della discordia del derby, sappiamo bene che cosa è successo tra Cialanoglu e Milano e l'Inter. Io dico una cosa, io sono sempre uno di quelli che dice è giusto esultare, anche se riex, perché ora stai giocando per un'altra squadra, per altri colori, per altri tifosi e non esultare mi sembrerebbe ingiusto nei confronti della tua nuova squadra, della tua tifoseria, dei nuovi colori. Però credo che ci debba essere anche grande rispetto per i vecchi colori, non mi è piaciuto tanto l'esultanza polemica di Cialanoglu, il voler procurare, voler tirare il rigore, sì, quello sì, essere protagonista, quello sì, l'esultanza sì, ci sta, il cercare di sentire i fischi, è certo che ti fischiano, è normale che ti fischiano, eri un giocatore importante per il Milan e sei andato ai rivali a parametro zero. Il fischio è il sentimento più sincero nel calcio, si fischia al giocatore che o ti ha tradito appunto, tra virgolette, che ti ha fatto male o che è solitamente più forte e che vuoi cercare di destabilizzare, è ovvio che tu ti vada a beccare i fischi, a maggior ragione se vai sul dischetto fai gol, va bene esultare, secondo me non è bellissimo esultare in maniera polemica nei confronti dei tifosi, poi se c'è qualcosa a livello societario, allenatore, quella è un'altra storia, ma nei tifosi, i tifosi sono il bello di questo sport, io ve lo dico proprio tranquillamente, tifo Juventus è una grande cosa che invidio Milani-Inter e questo è il derby, vedere uno stadio così, una città così, divisa, quella è una partita davvero diversa che si prepara da sola, ragazzi in questa partita in allenamento non c'è bisogno di dire niente, è la stracittadina, c'è Milani-Inter, io non la sento questa roba col Toro, ma perché sento che la Juve non c'era col Torino, il Torino c'era con la Juve, la Juve col Toro no, e questa è una cosa che mi manca tanto da tifoso, a me piace un sacco guardare tutti i derby, quelli di Genova, quelli di Roma, li guardo sempre se sono libero dalla possibilità, perché sono veramente, si respira qualcosa di diverso, è una partita diversa e quindi l'Inter ha avuto delle occasioni sì che non è riuscita a concretizzare, il Milan invece è la squadra che mi piace di più tra le due di der giocare, poi quest'anno il Milan l'ho visto tanto, l'Inter non troppo il Milan tanto, ne ho viste tante le partite del Milan e non le ho viste in Champions, se non quella con il Liverpool a Danfield, è davvero un mi capacito di come il Milan possa essere in quella posizione in Champions, poi penso alla Juve che è in campionato male male, in Champions bene bene, il Milan in campionato bene bene, in Champions male male, trovatemi una logica nel calcio, vi prego, vi scongiuro, perché il Milan gioca anche un calcio molto moderno secondo me, il Milan gioca un calcio intenso, cazzo di intensità del Maragazzo, ma quanto intenso il Milan, il Milan è una squadra veramente intensa a livelli allucinante, e quando sembrava non averne più nel finale trova delle nuove energie per trovare ancora una volta la voglia di andare a fare gol e per poco non ci riesce, col palo di Salemakers nel finale, il tapin di Chessig la butta fuori, poi Pioli mi piace un sacco come l'entore, c'è poco da fare, questa voglia di impostare a tre con il centrale di centrocampo che si abbassa, formare il rombo difensivo con l'altro centrale di centrocampo che rimane sui due centrali che si allargano, c'era Andrea Pirlo allo stadio stasera, l'anno scorso secondo me Pirlo deve prendere in considerazione anche questa opzione, che è un po' la prima opzione che avevo palesato anche qua sul canale, che qua da un po' se lo ricorderà quando Pirlo dice imposteremo tre, difenderemo quattro, più che il centrale che rimane bloccato, che si scalca, è un po' quello che sta facendo Allegri anche quest'anno, io mi immaginavo questo, il regista, il centrocampista che viene giù, si allargano i centrali e si imposta tre, stile Bayern Monaco anche nell'ultima Champions che ha vinto, quello era il classico stile del Bayern, e tra l'altro Allegri anche l'altra sera con lo Zenit, noi abbiamo giocato in quella posizione con i due centrali che si allargavano, Locatelli che veniva giù e McKennie che rimaneva alto, ma la cosa veramente bella di questo Milan è che è uomo a uomo, il Milan davvero sta uomo su uomo, perché? Perché se deve attaccare così tanto e deve sovrapporre sempre i terzini, tenere sempre i terzini alti, non puoi farti sfuggire gli uomini, devi anche andare a prendere il fallo, devi andare a fare il fallo, prendere il giallo, devi essere cattivo, devi giocare, se giochi di intensità deve essere una partita a tutto campo e quindi andare sempre uno contro uno, e il Milan in questo è bravissimo, il Milan che adesso io guardo le statistiche, se uno guarda soltanto i tiri in porta, 4 per il Milan, 3 per l'Inter, non rende assolutamente l'idea di quella che è stata sta partita, poi hanno detto giustamente bene ad Azzon, forse i giocatori che sono mancati di più sono stati Dzeko e Ibra, proprio perché in questa intensità di partita, vabbè, l'Inter ha fatto un po' fatica a reggerla, questa intensità, l'Inter è una squadra che va a giri più lenti, forse una squadra più tecnica, il Milan invece vai sempre ai 1000 all'ora e quando non vai ai 1000 all'ora non rende bene come quando vai ai 1000 all'ora, questo forse è un limite del Milan, forse per questo che in Champions non sta andando così bene, forse ha sempre trovato delle squadre che andavano più intensamente del Milan e quindi è stata forse anche sfortuna per il Milan beccare un girone così difficile, perché veramente un girone difficile quello per il Milan, però forse è mancato questo, Ibra si è visto sui piazzati, una punizione fatta bene, un calcio d'angolo, una punizione non mi ricordo, sulla quale poi Ibra tira di sinistro al volo e per poco Brozovic non la becca di mano, per fortuna la chiude un po' così, poi ci saranno delle polemiche arbitrali per il primo rigore, io non ho capito bene che cosa è successo, il secondo mi è sembrato veramente netto, clamorosa anche l'ingenuità di Balo Touré che mi è sembrato tra tutti i giocatori in campo che giocavano sugli esterni, quindi Calabria una parte, gran partita di Calabria, Darmiane Persic dall'altra e appunto Touré il giocatore esterno un po' più scarso in campo ed è stato un peccato non vedere Teo Hernandez che era squalificato perché ci poteva essere qualcosina di più, ci poteva essere dell'intensità maggiore all'interno di questa partita e delle strappate ancora diverse, poi il Milan ha fatto una bellissima partita anche senza uno dei titolarissimi come Teo Hernandez e davvero mi dà più fastidio pensare a un derby che poteva essere ancora più bello ma che alla fine è stato bellissimo così ma poteva essere di più, io poi vado l'ho letto contento perché c'è stato il pari quindi se ci sono tre punti in paglio e ne prendono una testa vuol dire che uno viene messo da parte e quindi noi abbiamo rosicchiato qualche punto sia al Milan che all'Indre questa giornata, poi lo sappiamo noi non dobbiamo fare la corsa sullo scudetto però il campionato è lungo e qualcuna delle due squadre potrebbe rallentare e quindi quei punti che ad oggi sono da scudetto domani potrebbero diventare punti importanti appunto per la corsa Champions, fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, fatemi sapere se vi è piaciuto anche un video diverso da quello inerente classico alla Juventus e se queste post partita di partite importanti in Serie A possono farvi piacere anche in futuro.